Musica Salve a tutti ragazzi io sono Legomaster Oggi siamo tornati con un nuovo video Innanzitutto mi voglio scusare se Non ho pubblicato video ma Sono stato molto impegnato sia con la scuola Sia per impegni miei personali Oggi siamo tornati con un video Molto diverso dal solito infatti Andremo a reagire A Dei video Dove C'è questo canale dove Gli run Tutte le dashcam delle auto E lui le mette insieme in un solo video Questo canale si chiama BadDriversOfItaly Vi lascio il link ovviamente in descrizione Andate a passare Andatevi ad iscrivere se volete Quindi direi che possiamo cominciare con questo video Ok siamo Andate a vederla sul canale Lascia un'ottima avanti Ok Siamo a Perugia Questo è uscito Aveva lo stop Questo Si chiama l'overe In Belgium Penso Questo va a dare ripercigenza Non l'ha rispettato Mediglia Non l'ho capito Ok Trescore balneario Anche questa Dalle precedenze Non l'ha rispettato Va bene Al me Mi sorpasso così Non l'ho capito che è successo Palermo Palermo Ma sei un cretino A Palermo è veramente così Fanno Vigonza Quello ha lo stop Cosa sta facendo Sta andando Contromano Chirignano No Chirignago Ok SS10 Vabbè Mi sorpasso così Ah no Però c'è la linea C'è la doppia linea Bellinzago Novarese Oh mamma Questo l'ho visto male Coglione Coglione Milano Meda SS35 Piove Perché rallenti Ma che cazzo fai Questo evidentemente Non vuole Voi ciclisti Dovete stare attenti Ve lo dico perché Anch'io sono un ciclista Cioè Vabbè A volte Prendo la bici Ok Questo è uscito Senza guardare Proprio Proprio Lavena Ponte Ponte Tresa Varese Oh mamma mia Questo è un pazzo Riolo Terma Ma perché in senso unico Perché Tangenziale Tangenziale Sondrio Spaccaia la macchina Siamo a Sondrio Oh mamma mia Un altro ciclista Questo però Tangenziale Continua a superare Tre macchine Va bene Torino Siamo a Torino E questo Passa con il rosso Ok Siamo a Verona Oh mamma mia Si ha il dare precedenza Perché non lo rispetti Ok Reggello Firenze Questo si Si stringe un po' troppo Torino Di nuovo Il camion E' passato Con il rosso Ok Siamo a Milano Questo proprio Era Non stava guardando Proprio Ah Gli si è rotta la gomma Si è riata Si è riata Non ho capito Monserrato Questo Passa con il rosso E' tanto per cambiare Così Roma Ma cosa fai? Perché ti devi stringere Di qua? Senago Milano Penso Ok Varese Questo Passa con Insomma Con il rosso Tanto per cambiare Trieste Senza dare precedenza Ok Roma Tra l'altro Tra l'altro Questo si chiama Andate piano 75 Torino Questo con l'overboard Passa con il rosso Pure questo con il monopattino Anche quello in bici Ok Tutti in bici Passano Tangenziale ovest Milano Eh no Però questo Eh Trieste Questo con la striscia Continua In curva Noceto Ma sei stupido Allora Badi Badiapolesine Penso che dice così Non lo so Foligno Ragazzo Va Ma Va bene Torino C'è il rosso E questo passa Bravo Sabaudia Un classico SS 131 Cagliari Questo Esce Senza guardare Cosa è successo Qui a Bergamo Ma cos'è E cemento Quello Borghetto Un coniglio Quindi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un like A questo video A tutti gli altri video Attivate anche La campanella Per non perdervi Nessun video Passate dal canale Di Beggiaversofitaly Che secondo me Ci mette tanto impegno Per fare i suoi video Iscrivetevi anche al canale Su ovviamente Che il mio Non dovete essere iscritti Poi Vi ricordo che in descrizione C'è il link Del canale Appunto Di Beggiaversofitaly Il link Di discord Se vi volete unire E verrete salutati In un mio video E anche il canale E anche il canale Per fare il link Per fare il provino Per il team Di Fortnite Quindi Da Legomaster È tutto E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao Fatemi anche sapere Se volete Dei Degli altri video Reazione Di questo canale YouTube O di Di qualche altro video Iscrivetevi nei commenti Ciao Iscrivetevi